Un concorso organizzato male, uno spazio giuridico per attaccare il concorso ha prodotto in questo momento un blocco, una sentenza che ha annullato in questo momento il concorso per dirigenti scolastici con delle conseguenze nefaste sull'intero sistema scolastico italiano. Tutto da rifare il concorso per dirigenti scolastici, il Tar del Lazio ha infatti annullato lo scritto dell'ultimo concorso per presidi, dopo che decine e decine di candidati avevano presentato ricorsi denunciando irregolarità nella prova. Sono oltre 8.000 le istituzioni autonome in Italia e sono più di 2.000 i posti vacanti nel paese, soprattutto nel centro-nord. In Toscana oramai siamo a 170 posti vacanti, più abbiamo 22 scuole sottodimensionate su cui sarebbe necessario un intervento normativo. A questo si aggiunge, siamo in una fase dove si sta svolgendo anche il concorso per il direttore dei servizi generale amministrativi, sarebbe il segretario della scuola, in Toscana ne mancano 237 su 495, quindi le due figure apicali che dovrebbero gestire le scuole, le istituzioni scolastici autonome, in realtà mancano e questa assenza e questa precarietà data dalla Regenza produce degli effetti di incertezza sull'impianto e sulla programmazione pedagogico-didattia. Un'emergenza che ovviamente tocca anche la provincia di Arezzo. La situazione attuale è che il Ministero, l'Avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato e chiedendo la sospensiva. Stiamo aspettando la risposta appunto del Consiglio di Stato, qualora negli la sospensiva e quindi si vada, si blocchi il concorso fino a nuova sentenza, la provincia di Arezzo si troverà come in tutta Italia senza dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico. Non la totalità ma una buona parte delle scuole saranno senza dirigenti.